Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda per un incidente adesso risolto tra Aglio e Calenzano, Sesto Fiorentino. In direzione Bologna chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il vivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio fino al 30 aprile. In A11 per lavori di pavimentazione stanotte in orario 21.6 sarà chiuso l'allacciamento con la 1 per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze, stasera in orario 21, mezzanotte e 30, le fermate della linea tramviaria T1, Fortezza e Valfonda non saranno servite. Trasporto garantito da bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!